Il incontro, questa iniziativa, rientra in un percorso concordato con la conferenza dei sindaci e le organizzazioni sindacali di confronto che rientra nel piano, nella nostra attività di contrattazione sociale per cui l'obiettivo sarà quello di far conoscere e conoscere tutti i piani che ci sono sul territorio in ambito sanitario e da lì poi partiremo per confrontarmi e soprattutto controllare che tutto vada a piani giri e sia efficiente e velocemente.